Un Molise di eccellenze, territori incontaminati e di biodiversità da valorizzare. Il presidente di partecipazione democratica Stefano Buono torna a battere i pugni sulla promozione turistica e lo fa portando al centro della discussione il Parco regionale dell'Olivo e l'Oasi Le Mortine. Secondo il consigliere comunale di Venafro, le due attrazioni naturalistiche sarebbero oggetto di scarsa cura da parte delle istituzioni. Per quanto riguarda il Parco dell'Olivo, fortunatamente c'è l'intervento dei proprietari dei oliveti che quindi riescono a tenere in modo decoroso la situazione sotto controllo. Diversa la vicenda per le Oasi Le Mortine che da parecchi mesi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, versano in uno stato proprio di abbandono, nonostante il lavoro, l'impegno di tanti volontari che molti dei quali fanno parte dell'Associazione Pianeta Terra e che hanno in gestione le Oasi Le Mortine che purtroppo senza un interesse particolare da parte delle autorità competenti e senza risorse non possono fare più di tanto. Da qui la richiesta di Buono indirizzata ai vertici regionali e all'amministrazione comunale di Venafro per lavorare a una mirata strategia di rilancio per le due aree. Serve slancio di progettualità da parte di comune e regione, fare in modo che ci sia un progetto su queste aree che diventino il perno per attrarre un turismo esperienziale, un turismo emozionale che sappia mettere assieme, sappia fare un lavoro di cucitura tra i borghi e i paesaggi. Ecco, ciò che di bello abbiamo dal punto di vista naturalistico con le chiese, musei, le particolarità enogastronomiche.